al sana un po come tutti gli anni quest'anno abbiamo diverse novità ma la novità vera è che presentiamo per la prima volta una gamma interessante di prodotti freschi che sono qui dietro la parte portante riguarda e anche questa novità il settore dell'ortofrutta e parliamo di prodotti pronti da consumare oggi simone vi proporrà le zuppe che noi venderemo preparandole al momento trovate la carota sulla destra il cavolo come seconda posizione il sedano la verza e la costa abbiamo aggiunto tutte le verdure tranne la vietola la costa essendo di un colore verde acceso ma è molto sensibile al calore io l'aggiungerei all'ultimo momento in modo da rispettare anche di più la pigmentazione i ruoli sono chiari al cenero spa è il proprietario del marchio è quello che deve mettere un po la parte di comunicazione di filosofia del biologico la nina verde il partner industriale quindi farà i prodotti e abrio è affidata alla costruzione ci vorrà un po di tempo di tutte le filiere perché uno degli elementi caratterizzanti del marchio al cenero è il fatto di avere gli agricoltori inseriti nella propria compagine sociale al cenero è storicamente un marchio multicanale quindi la nostra intenzione è vendere i prodotti freschi esattamente allo stesso modo cioè proponendoli a tutti i canali la grande distribuzione è il canale che si sta sviluppando di più i negozi specializzati sono il canale insomma da cui noi proveniamo e che comunque ha più da ha più potenzialità per avere una rappresentatività di gamma e quindi la nostra intenzione è di proporgli a tutti speriamo di riuscirci